Perfetto, la registrazione è avviata, c'è ancora un... ecco. Allora, buonasera a tutti. Questa sera c'è un incontro che rientra nell'ambito della presentazione di buone pratiche nell'ambito del LinkedIn Open Data e di Wikidata. E questa sera viene presentato il progetto LinkedIn Open Data del COVIS, un portale che è stato tra le prime esperienze di questo genere in Italia, quindi molto interessante per l'ambito biblioteconomico. Ed è stato avviato tra il 2015 e il 2016. Il COVIS è la sigla per chi non lo conosce, è il coordinamento delle biblioteche speciali e specialistiche dell'area metropolitana turinese. che costituisce una rete informale di 66 biblioteche appartenenti a diverse realtà, come accademie, fondazioni, musei, istituti culturali. Ed esiste sin dal 2008. Organizza eventi e iniziative per i propri utenti e supporta la formazione del personale. Per il COVIS stasera è presente Elena Borgi, laureata in lettere con una specializzazione in gestione delle biblioteche e responsabile della Biblioteca dell'Archidio Storico dell'Accademia delle Scienze di Torino. Poi parlerà Irene Piergentili, che ha conseguito la laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia all'Università della Sapienza. Ora frequenta il Master in Digital Humanities dell'Università Statale di Milano ed è tirocinante presso il COVIS nell'ambito di una convenzione stipulata tra il Master e il COVIS. Infine Eliana D'Amato è laureata in Italianistica, si è poi specializzata nell'ambito dei LOD presso la Summer School dell'Università di Bologna e poi ha collaborato con borse di studi e di ricerca con l'Università di Torino. E oggi è data a cura Rishima Specialist presso di Natta, che è la società torinese che ha fornito il supporto tecnico al progetto COVIS LOD. Prima di lasciare la parola a Elena Borgi, ricordo ancora un altro appuntamento che sarà sempre in relazione al portale COVIS, COVIS LOD, ovvero il 14 dicembre vi sarà l'edizione dell'editaton mensile per il miglioramento su ichidata delle voci di persone, che sarà dedicato proprio agli autori con un identificativo COVIS. Quindi ci sarà questa giornata di editatone e poi alle 17, per circa un'ora, un momento di incontro e confronto per affrontare eventuali dubbi o casi particolari. Quindi adesso lascio la parola a Elena Borgi che introduce la presentazione. Grazie Elena. Allora, io voglio condividervi subito lo schermo per parlarvi del nostro progetto e parlarvi anche un po' in introduzione del COVIS dicendo qualcosa che Elena non ha detto. Il COVIS, come vi diceva Elena, è un coordinamento spontaneo, una rete di biblioteche differenti per dimensioni, per tipologia, per documenti. È nato nel 2008 e oggi è una realtà che riunisce 66 biblioteche. 60 biblioteche che in particolare hanno una peculiarità, hanno degli elementi in comune. Sono biblioteche speciali e specialistiche. Biblioteche che hanno un grande patrimonio librario perché conservano più di un milione e mezzo di volumi e oltre 40.000 testate di periodici. Quindi insieme costituiamo una torta molto importante, una fetta molto importante della torta bibliotecaria torinese e della prima cintura, diciamo, di Torino perché in realtà non ci chiudiamo solo al centro di Torino ma abbiamo anche biblioteche di Ivrea e di Saluzzo. L'importante è che siano biblioteche specialistiche, quindi non biblioteche universitarie, non biblioteche civiche. Anche se poi anche lì della biblioteca civica raccogliamo in realtà la biblioteca della Corte che è specializzata, è un ramo specializzato delle biblioteche civiche. Il COBIS nasce per rispondere a delle esigenze, a un'esigenza di formazione proprio perché noi bibliotecari del COBIS spesso venivamo esclusi da momenti formativi riservati in particolare ai bibliotecari universitari per poterci promuovere in maniera più facile facendo massa critica per migliorare i servizi del nostro pubblico perché la rete di rapporti anche umani tra i bibliotecari in qualche maniera ci ha permesso di offrire un servizio migliore ai nostri utenti. Adesso è molto più facile per noi alzare il telefono e dire a un collega che hai visto in riunioni plenarie una o due volte all'anno scusami potresti vedere se hai questo libro, mi puoi fare queste cose qua. Per noi questo ha costituito veramente un momento di lavoro in sinergia e di gruppo. E poi per ultimo per collaborare con le istituzioni per portare avanti dei progetti che le singole biblioteche non avrebbero avuto la forza di poter supportare. Il COBIS, come vi diceva Elena, non è un ente strutturato è un ente spontaneo in cui le biblioteche decidono di partecipare con anche un impegno di tempo. Infatti la segreteria è annuale e a rotazione. In questo momento la bibliotecaria coordinatrice, segretaria del COBIS e Anna Peyron del Teatro Stabile ma dal 2008, quando è nato il COBIS, ad oggi si sono succeduti già 12 o 13 bibliotecari. Noi come ci organizziamo? Beh, con riunioni plenarie che sono in media 3-4 l'anno più dei gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro in questo momento sono quelli che vedete qui in mezzo alla slide, ovvero comunicazione quello che si occupa un po' di mantenere e cercare di promuovere il COBIS all'interno della realtà bibliotecaria locale e nazionale il gruppo digitalizzazione, il gruppo che si occupa dei laboratori di lettura quindi dedicati a un'altra tipologia di servizio quello sul libro antico, sui link ad open data e sul soggettario. Tutte le informazioni e la nostra struttura sono visibili anche sul nostro sito web che è per noi la vetrina per illustrare che cosa facciamo. Tra i progetti straordinari, più recenti, che sono stati possibili proprio grazie al fatto che siamo una realtà viva e di molte biblioteche c'è appunto il progetto COBIS-LOAD e il progetto Digital Library and Archives di cui vi parleremo poi nel corso di questa presentazione. Il progetto COBIS-LOAD interessa 12 biblioteche COBIS il progetto Digital Library and Archives è interessato in tutto 17 biblioteche perché non è che tutte le biblioteche devono partecipare la nostra è un'opportunità che viene data alle biblioteche del COBIS ma poi ognuno partecipa se può e se riesce. Perché abbiamo iniziato un progetto sui link ad open data? In realtà il progetto nasce nel 2014 quando avevamo organizzato un seminario dal titolo Le biblioteche specialistiche un valore tra realtà e futuro dove c'eravamo un po' interrogati soprattutto sul nostro futuro e su che cosa avremmo potuto fare. Durante quel seminario ci venne presentata la potenzialità degli open data e dei link ad open data per cui un po' temerariamente forse abbiamo deciso di provarci e lanciarci in questo strumento. Perché? Perché è un catalogo LOAD e il portale COBIS-LOAD ve lo faremo vedere è uno strumento più performante di un OPAC è una cosa diversa mentre l'OPAC è consultabile dal web il portale COBIS-LOAD diventa un dentro al web è un catalogo collettivo arricchito da risorse che non carichiamo noi cioè che sono prese dal web sono esistenti o comunque incrementabili da internet e che quindi si arricchisce man mano togliendo anche un po' di lavoro oggettivamente e dando delle informazioni in più ai nostri utenti. Perché realizzare il portale LOAD? Queste sono le motivazioni principali tra queste io vorrei appunto sottolineare l'arricchimento automatico cioè il fatto che noi non dobbiamo farlo a manina non dobbiamo aggiungere noi che ne so le date di nascita e di morte dei nostri autori non dobbiamo dare noi delle informazioni tipo le biografie o altre cose permette di fare delle ricerche nuove cioè che ne so quanti libri scritti da donne ci sono nel periodo compreso tra il 1650 e il 1800 provate a farlo con un OPAC tradizionale da nessuna parte esiste il flag seleziona solo le donne e in più anche per valorizzare alcuni progetti come le digitalizzazioni che spesso nei nostri OPAC sono ancora secondarie come visibilità. Il progetto sui LOD in particolare nasce quindi dopo questo seminario del 2014 nasce tra il 2015 e il 2016 lì effettivamente iniziamo a lavorarci e in questo momento ha avuto 5 annualità di sviluppo vi parlo di 5 annualità di sviluppo perché è stato sostenuto economicamente oltre che dalle singole biblioteche partecipanti soprattutto dalla regione Piemonte che ci ha creduto ha creduto molto in questo progetto e ha stipulato delle convenzioni con l'Accademia delle Scienze adesso vi spiegherò anche perché convenzioni sempre annuali e quindi ogni anno abbiamo provato a darci degli obiettivi diversi e a sviluppare il portale Chiaramente è stato un progetto pilota adesso è uscito dalla sua fase pilota però è stata la prima esperienza in tal senso in Piemonte e gli obiettivi principali che ci ponevamo erano integrare cataloghi eterogenei e ampliare il contenuto informativo dei nostri cataloghi Il progetto sui LOD vede partecipanti adesso 12 biblioteche un primo gruppo di 6 biblioteche è entrato a far parte del progetto Cobis LOD fin dalla prima fase altre si sono aggiunte successivamente come vedete già dai nomi vi rendete conto dell'eterogeneità dei dati che si portano dietro queste biblioteche ci sono accademie quindi enti e la deputazione ad esempio che sono enti storici ci sono invece biblioteche del polo del novecento che invece sono di formazione decisamente più recente ci sono biblioteche che si occupano di argomenti scientifici ci sono biblioteche invece che hanno una valenza molto più specialistica ad esempio la biblioteca civica musicale il nostro problema anche era che appunto il Cobis riunisce biblioteche che usano gestionali diversi alcune di noi sono nel polo bibliografico della ricerca e quindi adesso usano SBN-NEXT altre biblioteche usano SBN-WEB altre BB-WIN alcune Clavis e alcune Erasmonet che è un prodotto tipico piemontese quindi per noi i link ad Open Data erano anche uno strumento per unificarci per riuscire a trovare un sistema per le biblioteche Cobis di riunirci sotto un unico catalogo proprio perché in questo momento per sapere cosa c'è una biblioteca Cobis devi utilizzare cataloghi diversi questi sono sommariamente gli sviluppi delle prime quattro fasi di Cobis LOD e in particolare vi ho segnalato in blu le cose più importanti che sono state fatte per ciascun anno di sviluppo dalla creazione dell'infrastruttura tecnologica vera e propria cioè lo step primo avere uno strumento a delle modifiche che sono state necessarie per ottimizzare questa piattaforma a strumenti come Olaf di cui poi vi parlerà Irene che sono veramente molto interessanti secondo me per noi bibliotecari sempre alla ricerca di migliorare la qualità dei dati dei nostri cataloghi che non ce li dimentichiamo oltre ad avere ancora una copertura molto più bassa di quello che ci aspettiamo rispetto al posseduto delle biblioteche sono spesso molto sporchi i nostri cataloghi spessissimo sono pieni di duplicati e di problemi soprattutto per gli autori di file l'avvicinamento ad internet archive per le digitalizzazioni e poi anche soprattutto nell'ultime fasi più recenti l'avvicinamento a Wikidata la fase quinta quella che si sta di fatto concludendo adesso è quella anche di far conoscere di più il nostro progetto di far garantire al nostro progetto una sopravvivenza perché anche questa non è scontata e soprattutto di iniziare a lavorare più concretamente con progetti di community proprio come internet archive e Wikidata adesso vi parlerò del portale ve lo illustro e faccio uso di questa immagine che credo che molti di voi riconosceranno perché ora vi parlo dell'esterno del portale e poi Lianna invece vi parlerà di che cosa si nasconde sotto quello che vediamo in questo momento ecco questa è la maschera di interrogazione del portale LOD del COBIS quindi la nostra home che è già stata immaginata con un box di ricerca molto ampio molto libero come ci ha insegnato Google d'altro canto perché il nostro scopo è di allargarci al grande pubblico ora io vedo come esperienza personale che sempre più spesso i nostri utenti sono impreparati ovvero difficilmente sanno distinguere che cos'è un documento d'archivio da che cos'è un libro almeno da noi confondono frequentissimamente i diversi moduli e non hanno più tanta voglia di queste maschere con autore, titolo, separazione la ricerca avanzata insomma non piace più sono abituati ormai a questa ricerca Google e così è stato strutturato il portale COBIS-LOAD abbiamo poi invece una parte bassa dove in qualche maniera si offrono dei percorsi di ricerca e una novità proprio aggiunta da pochissimo tempo anche l'accesso diretto alle digitalizzazioni proprio perché negli ultimi mesi abbiamo lavorato tantissimo proprio su questo aspetto sul permettere al nostro pubblico di sfogliare i documenti che così faticosamente sono stati digitalizzati nel corso del tempo o che altre istituzioni hanno digitalizzato per noi una parte molto importante vedete qui in alto voi potete andare sulle varie parti del portale una parte molto interessante è quella degli autori dove appunto si applica in automatico il filtro e quindi quando uno mette una ricerca qui automaticamente cerca un autore per nome o cognome e si apre anche questa visualizzazione che ricorda un po' i graffi tipici dei LOD con gli autori più in evidenza è un modo anche lì per aiutare per incuriosire la nostra utenza a sfruttare le potenzialità di un catalogo e quindi ci immaginiamo che le persone vedendo i volti in qualche maniera siano anche solleticate a schiacciare e vedere quali opere conservano le nostre biblioteche vedete che poi questa è stata anche questa un'aggiunta avvenuta qualche tempo dopo visto che molti volti erano in realtà irriconoscibili abbiamo anche aggiunto una serie di nomi molti il portale non è stato così sempre si è modificato anche lui all'inizio aveva anche una grafica diversa poi mi pare tra il seconda e la terza fase ha acquisito questa grafica e poi man mano anche noi cercando proprio di vedere quali erano le richieste che ci venivano da fuori abbiamo chiesto delle modifiche in realtà è un lavoro in itinere che non ha mai fine Sinapta spessissimo riceve le nostre richieste di ma vorremmo questo, ma vorremmo quello scusatemi e poi entriamo ad esempio qua facciamo finta di aver cliccato su uno di quei nomi siamo arrivati a un autore benissimo, questa è la voce Philip Roth e vedete una serie di informazioni tra cui la data di nascita la data di morte vedete la biografia all'inizio della biografia ebbene se voi fate cliccate su questo bottoncino vedete tutte le informazioni che in realtà non abbiamo scritto noi ovvero la maggior parte tutte queste informazioni che vedete riquadrate di giallo sono desunte da fonti esterne e quindi non hanno impiegato un lavoro effettivo per noi bibliotecari questa invece è la maschera di ricerca per le opere anche qui box a finestra unica ma qua abbiamo voluto aggiungere una vetrina una vetrina che illustrasse alcune opere che erano per noi significative infatti questa vetrina se vogliamo non è una vetrina automatica voluta da un algoritmo ma è una vetrina voluta da noi bibliotecari anche per far vedere la tipicità delle nostre biblioteche e quindi dopo una serie di incontri e discussioni avevamo deciso di far apparire delle opere che alle nostre biblioteche erano particolarmente a cuore o comunque erano in qualche maniera un'espressione delle nostre delle attività anche dei nostri istituti anche qui un po' come nella maschera degli autori l'opera permette di avere i dati importanti che possono essere la pubblicazione l'editore insomma quelli a cui noi bibliotecari e non solo siamo abituati ma abbiamo già subito un'immagine e anche scusate abbiamo un'immagine pensavo ci fosse qualcosa prendiamo dai LinkedIn ma se voi cliccate qui quello che vi succede è che vi rimanda alla pagina di Internet Archive dove l'opera è digitalizzata e dove voi potete vedere e sfogliare quello che vi interessa in particolare vedete qua quello che succede quello che avviene come interlinking cioè quello che viene importato da altri quindi in questo caso i dati sono effettivamente molto meno però quello che è secondo me molto importante perché è un valore aggiunto incredibile è proprio la parte di digitalizzazione in ultimo avete visto lateralmente si possono aggiungere dei filtri e il filtro che volevo la maggior parte sono scontati cioè la natura che biblioteca possiede la tipologia del documento un filtro proprio nuovo introdotto negli ultimi mesi è quello sulla digitalizzazione e permette di selezionare le opere digitalizzate presenti nelle biblioteche questo perché abbiamo visto come l'impatto soprattutto del covid l'impossibilità di recarsi nelle biblioteche abbia determinato la necessità di attingere il più facilmente possibile alle risorse disponibili digitalmente e quindi proprio in questa prospettiva si è deciso anche di aggiungere questo questo filtro e qui ci leghiamo perfettamente all'altro progetto del del COBIS ovvero il progetto COBIS Digital Library and Archives che è stato gestito dalla biblioteca civica di Torino infatti per tutti i progetti non avendo il COBIS un non essendo un ente ha bisogno di un soggetto capofila in questo caso a fare mentre per il progetto COBIS LOD l'ente capofila è stato fino ad ora l'Accademia delle Scienze per il progetto COBIS Digital Library and Archives è stata la biblioteca civica a questo progetto hanno partecipato 17 biblioteche è stato avviato nel 2018 con anche qui una serie di obiettivi prima di tutto garantire la tutela e la conservazione dei documenti perché comunque la digitalizzazione ha questa migliore la fruizione ma consente anche a noi di tutelare di più delle collezioni che magari sono fragili per via dei supporti poi garantire l'accesso da remoto a risorse di difficile reperimento favorendone la consultazione e la diffusione questo ormai ci è chiaro il covid ci ha insegnato assolutamente questa lezione sempre più spesso gli utenti sono i primi ormai a dirci non possiamo avere il pdf o possiamo avere le immagini digitali il progetto COBIS Digital Library d'Archives si è portato però anche dietro nella digitalizzazione il riconoscimento dei caratteri cioè lo CR dei testi digitalizzati la produzione di metadati in formato XML MAG 2.0 e METS e la pubblicazione su delle piattaforme inizialmente pensavamo di pubblicare sulla teca digitale piemontese che non è ancora entrata in funzione abbiamo optato per Internet Archive che è una piattaforma straniera con dei limiti ma anche moltissime potenzialità le immagini digitalizzate sono state più di 180.000 e anche questo progetto è stato permesso grazie al contributo al sostegno economico della regione Piemonte in questo caso 17 vi dicevo sono state le biblioteche che hanno partecipato anche qui biblioteche accademie la biblioteca civica la biblioteca nazionale del club alpino italiano il centro studi Sereno Regis la fondazione Giorgia Mendola la fondazione Tancredi di Barolo il museo del rigiornamento quindi 17 diverse biblioteche che hanno deciso di collaborare e migliorare la loro fruibilità la fruibilità dei loro testi qual è stata la razio la scelta perché ormai anche scegliere i libri da digitalizzare non può essere fatto in maniera disorganica vanno scelti dei requisiti è molto importante secondo me adesso spesso si parla di digitalizzazione ma non si pensa all'importanza di selezionare i documenti ebbene questo progetto ha dato molta importanza alla selezione dei documenti guardando la rarità la specificità della documentazione sono stati anche inclusi dei manoscritti nelle digitalizzazioni la difficoltà di consultazione è dovuta a molteplici ragioni per cui sia la fragilità dei supporti sia magari la difficoltà di accedere a determinate biblioteche l'importanza del materiale all'interno del contesto locale e il completamento di lavori che erano rimasti sospesi o poi perché erano finiti i finanziamenti o per altre motivazioni un requisito fondamentale per tutti i libri a stampa è stato il fatto di essere catalogati in SBN questo è un vecchio requisito ma io ritengo che per qualsiasi progetto di digitalizzazione la preventiva catalogazione in SBN sia un passo non superabile cioè chiunque deve che voglia digitalizzare deve prima catalogare e deve catalogare in SBN che è comunque il nostro servizio bibliotecario nazionale le specifiche tecniche questa è anche stata una sfida perché avendo 17 biblioteche coinvolte si è deciso proprio per migliorare anche un po' il flusso di lavoro di avere due sedi di acquisizione quindi una al centro rete del sistema bibliotecario urbano della città di Torino e uno per la biblioteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti quindi i libri sono stati spostati chiedendo anche le autorizzazioni alle relative soprintendenze quando si trattava soprattutto di libri di un certo peso e sono stati digitalizzati quindi con strumenti idonei degli scanner planetari di ogni documento è stata fatta una versione TIFF a 600 dpi a colori e poi delle sottocampionature in jpeg a 300 dpi diciamo per l'uso normale e poi il 150 dpi che è un po' più leggero e quindi è un po' più facile anche da maneggiare per i nostri hard disk è stato fatto lo CR dai TIFF e poi sono stati anche creati dei pdf multipagina per poterli anche qui fruire più agevolmente e sono stati fatti i metadati in formato mag convertiti poi in METS si è deciso poi di caricare tutto su internet archive e si è deciso quindi di creare una collezione COBIS collezioni digitali di area piemontese ed è anche stato deciso di mettere a punto un set di metadati perché Internet Archive su questo ha una maschera nel momento adesso ve la farò vedere una maschera nel momento in cui si si caricano si fa l'upload delle immagini ma ognuno carica un po' mettendo i dati che vuole un po' perché le parole sono in inglese e i campi sono delimitati da label in inglese un po' perché spesso vengono caricati in maniera non conseguenziale ci possono essere un po' di difformità quindi quello che è stato fatto è stato fatto un grande lavoro devo dire che sulla metadattazione la collega Valeria Calabrese e Raffaella Valiani hanno veramente dedicato tantissimo tempo hanno messo a punto un set di metadati adattabile anche a seconda che si trattasse di monografie quindi con opere a più livelli oppure di periodici su questo si vede che i file le immagini caricate su internet archive sono state fatte da bibliotecari e non da personale magari di cooperative che lavorano un po' più velocemente che tralasciano talvolta assolutamente non voglio dire che vengano fatti male i lavori però talvolta proprio nella fretta di caricare viene fatto un lavoro un po' più massivo e quindi meno attento vedete qui un esempio di caricamento su internet archive nella fase di upload dove non so quanti di voi siano soliti caricare su internet archive c'è comunque una pagina di title ridotta una pagina url che sarà poi quella che verrà fuori come identifier la description dove invece c'è la descrizione della singola opera e poi una serie di altre informazioni proprio andare a definire in maniera univoca ogni singola informazione è stata uno dei lavori importanti del progetto digital library and archives in particolare l'identificativo è stato creato quando possibile utilizzando una combinazione ben specifica l'identificativo sarebbe questo vedete che questo identificativo non è altro che il bid il codice della biblioteca e poi il numero di inventario seguito ancora da un altro numero se necessario quindi quello permette in qualche maniera salvo fusioni di titoli di ritrovare di avere un effettivo link immediato anche con sbn a questi metadati obbligatori ne sono stati aggiunti altri ovvero il contributor questa parte qui si inserisce da questa parte qui nelle more option sono stati aggiunti il contributor cioè il nome dell'ente proprietario dell'opera digitalizzata proprio perché essendo una collezione COBIS però si riteneva è importante dire qual era l'ente proprietario lo sponsor cioè il nome dell'ente finanziatore ed eventuali note poi alcuni dei campi ma questo ve lo lasceremo sulle slide se vi interesseranno sono la data che si intende la data di pubblicazione il creato il creatore cioè l'autore i topics queste sono delle differenze che abbiamo visto man mano che caricavamo le immagini e vedete alla fine la stessa opera che vedevate prima viene fuori in questa maniera e quindi con tutte le informazioni importanti vedete nelle note in questo caso è stato messo il bid alcuni campi sono ripetibili e quindi si possono dare più informazioni e per i periodici si può particolarmente importante perché i periodici sono particolarmente rognosi da caricare su internet archive si può utilizzare il secondo campo description per indicare anche le annate che sono state digitalizzate una cosa molto importante è il fatto che all'interno del campo description si possono mettere dei link e questo permette di rimandare proprio perché internet archive permette un numero massimo di immagini per ogni libro caricato o serie di libri caricate si può fare un link da una digitalizzazione all'altra perché la difficoltà più grande che abbiamo visto in internet archive è proprio recuperare testi facenti parte di un'unica o di una monografia a più livelli o di un periodico questo è il caso ad esempio di un'opera in due volumi in cui qui c'è il link al volume 1 questo è quello che viene fuori su internet archive come collezione di opere del covis del coordinamento questa è come si vede l'immagine e come la sfogliabilità io vi invito se non l'avete mai fatto ma dubito a sfogliare un libro su internet archive perché è veramente uno strumento ormai utilissimo soprattutto per noi biblioteche che non abbiamo finanziamenti nel senso che io non non mi stuferò mai di dirlo ma internet archive è gratuito potete fare una donazione se lo ritenete utile ma non siete obbligati e quindi costituisce un repository attualmente a costo zero sei biblioteche del progetto LOD infine hanno partecipato anche al progetto Cobis Digital Library ed Archives quindi a un certo punto due progetti nati separatamente sono confluiti per migliorare la fruizione per migliorare la sinergia e anche e abbiamo visto come su in questa questo aspetto sia importante per il progetto Cobis LOD perché ha dato una nuova potenzialità al nostro portale queste sono le biblioteche che hanno fatto parte quelle in blu sia del progetto Cobis Internet Digital Libraries ed Archive e queste e quelle in nero quelle in blu scusatemi sono le biblioteche che hanno partecipato anche al progetto Cobis Digital Library ed Archive e adesso vi passo passo la parola a Lianna che invece vi parla di che cosa c'è dentro il nostro portale sui link che dopo in data grazie grazie Elena mi confermate che vedete ok preferite che apro che allargo la schermata bene quindi Elena ci ha benissimo illustrato la parte più evidente del portale adesso andremo ad esaminare cosa sta dietro abbiamo parlato di trasformare i dati in link open data ma cosa vuol dire cosa sono i link open data si tratta quindi di trasformare i dati del catalogo in dati strutturati seguendo un formalismo standard per renderli interpretabili per le macchine e dotarli di significato utilizzando delle trichette un vocabolario comune per l'ambito di dominio nel nostro caso bibliografico e renderli identificabili univocamente in modo da pubblicarli collegarli a fonte esterna e quindi renderli fruibili per gli utenti direttamente dal web il modello standard attraverso cui quindi strutturare le informazioni è l'RDF che prevede di memorizzare i dati secondo delle triple le triple sono formate da un soggetto una proprietà e da un valore e quindi le varie risorse catalografiche verranno associate a un valore specifico o a un'altra risorsa attraverso una proprietà che identifica la relazione specificandone il valore semantico quindi per essere un po' più chiari un'informazione che per noi è facilmente interpretabile Luigi Pirandello è autore della tragedia Enrico IV per renderla interpretabile da parte di un elaboratore dobbiamo convertirla in codice e dargli una struttura quindi noi estrapoleremo dalla frase dei singoli elementi e confideremo dei valori quindi Luigi Pirandello avrà un codice identificativo così anche il concetto di tragedia l'Enrico IV è anche la proprietà che va ad identificare la relazione che intercorre tra Luigi Pirandello e l'Enrico IV ad esempio vediamo che ho utilizzato dei codici di richidata che per far interpretare alla macchina questo concetto abbiamo espresso con questi codici che Pirandello ha come opera rilevante l'Enrico IV che l'Enrico IV appartiene al genere della tragedia quindi l'RDF dona una struttura ai dati mentre le ontologie conferiscono un valore semantico nello stabilire la specificità delle relazioni che intercorre tra le risorse e andiamo ad esaminare il flusso di lavoro in una prima fase siamo occupati quindi dell'estrazione dei dati dai cataloghi delle biblioteche e li abbiamo mappati per convertirle e quindi ottenere le nostre triple come diceva prima Elena le fonti non erano eterogenee cioè non erano omogenee infatti provengono da diversi software gestionali in diversi formati quindi quindi per la triplificazione abbiamo utilizzato due strumenti open source TARCOL e JARCOL nel primo caso TARCOL converte i dati dal formato CSV all'RDF mentre JARCOL ci aiuta a dare in input dati strutturati in strutturati ad albero come nel caso dell'XML come ontologie abbiamo scelto di utilizzare un'ontologia tipica per questo dominio quindi Deep Frame aggiornata alla versione 2.0 è un'ontologia un po' più generica utilizzata dai motori di ricerca e favorire quindi maggiormente l'interoperabilità schema.org per quanto riguarda Deep Frame andiamo quindi abbiamo triplificato su tre livelli il work l'instance e l'item anche se dal portale l'utente quando va a cercare un'edizione un'opera vede il livello di soltanto il livello di instance che però è recuperabile attraverso la scheda RDF abbiamo aggiunto sul portale anche una sezione relativa all'ontologia per spiegare meglio quali sono state le scelte effettuate e anche per inserire delle proprietà che abbiamo realizzato appositamente per il CODIS per descrivere alcune informazioni che magari c'era difficile descrivere con le altre ontologie come nel caso ad esempio della relazione che stabilisce la presenza su WifiData di un'edizione presente sul catalogo del CODIS dopodiché ci siamo occupati della fase di arricchimento quindi abbiamo cercato di instaurare dei link con le fonti esterne come WifiData e VIAF attraverso degli specifici processi di interlinking VIAF è un database di voci di autorità controllate quindi consente di avere un'unica voce virtuale per tutti i modi in cui i cataloghi nazionali chiamano un determinato autore Wikidata è un database di conoscenza libera che su base volontaria raccoglie dati strutturali inerenti a vari domini e presenta anche un punto di convergenza tra vari progetti e vari database attraverso l'utilizzo di codici specifici di id la cosa importante è che Wikidata presenta una struttura tre partita nella memorizzazione dei dati e in questo caso l'ontologia viene decisa dalla community quindi viene più decisa in fase di lavoro in base alle esigenze crescenti anche suggerimenti della community questo è un esempio di risorsa descritta su Wikidata ho segnato in vari colori le varie componenti quindi vediamo che Dante Lighieri il soggetto quindi la risorsa descritta è associata a un identificativo rappresentato dalla lettera Q seguita da delle cifre numeriche e i dati relativi alla risorsa vengono inseriti nelle dichiarazioni attraverso l'uso di una property che stabilisce la relazione della risorsa con un valore espresso un'immagine o ad esempio degli identificativi infatti in fondo alla pagina di solito si hanno una serie di identificativi come l'IAF il codice SDN o anche l'identificativo del CODIS inoltre queste voci Wikidata raccolgono anche i collegamenti con i progetti fratelli di Wikimedia quindi vediamo in marrone la sezione relativa alle voci Wikipedia in tutte le lingue relative a Dante Lighieri per arricchire nel catalogo abbiamo detto che ci avvaliamo di procedure di interlinking o automatica o semi-automatica con queste fonti esterne nel caso del procedimento automatico abbiamo cercato di renderlo dinamico per favorire un incremento dei dati e attraverso il codice SDN o VIAF nel momento in cui su Wikidata viene inserito nella pagina di un autore il codice SDN un codice SDN che è anche presente sul Cobis LOD si instaura in automatico un collegamento questo ci garantisce quindi di aumentare il numero di interlinking nel tempo come mostra il grafico magari in una fase iniziale l'incremento è stato molto più evidente rispetto alle altre fasi del progetto e addirittura in alcune fasi sembra anche esser calato ma cresce anche in dipendenza al numero di autori che durante gli aggiornamenti periodici del catalogo che effettuiamo aumentano e poi abbiamo utilizzato invece per l'interlinking semi-automatico un software open source che abbiamo realizzato Olaf che raccoglie i dati del catalogo del Cobis e in relazione ai dati presenti per autore interroga le piattaforme i database esterni che fanno parte della LinkedIn Open Data Cloud però questo magari lo lascio adesso un attimo raccontare ad Irene ne approfitto per dire che ad esempio questa piattaforma è stata utilizzata anche in altri progetti per matchare i dati del catalogo dei beni culturali con gli elementi presenti su Wikidata o anche ad esempio i monumenti comuni presenti su Wikidata quindi in collaborazione con Wikimedia Italia sto cercando di lasciare a Irene la condivisione spero di esserci riuscita si vede? si grazie grazie vi presento un po' il funzionamento di OLAF questa è l'interfaccia che possiamo visualizzare che seleziona delle entità potenzialmente equivalenti che provengono appunto da diverse basi di dati qui possiamo vedere sulla sinistra un riquadro con l'entità appartenente al catalogo del CODIS dove appunto possiamo vedere il nome dell'autore l'intervallo di date di opere i titoli delle opere e i ruoli dell'autore selezionato mentre sulla destra possiamo vedere quelli appartenenti a basi dati diverse e in particolare VIAF Wikidata in alcuni casi vediamo anche altri riguardi come in questo caso significa che all'elemento Wikidata sono state collegate altre informazioni e ad esempio cliccando su questi link esterni possiamo approfondire con informazioni su un determinato autore e scegliere se selezionarlo e queste informazioni presenti sui riquadri sulla destra ci permettono in molti casi anche di di capire quando ci sono delle situazioni di omonimia come ad esempio in questo caso qui possiamo avere abbastanza la certezza che sia quello sulla sulla sinistra perché le opere che abbiamo in catalogo riguardano l'escalato delle montagne questo Simon Gage è un alpinista e quindi possiamo procedere e selezionarlo cliccando su associautori selezionati veniamo rimandati a una seconda schermata in cui possiamo selezionare quando non sono stati selezionati i dati da importare nel catalogo e cliccando su conferma assegnazione abbiamo completato la procedura in questo caso OLAF è stato modulato sui dati del catalogo del CODIS quindi permette sia di fare dei match casuali che eventualmente di selezionare un determinato autore come in quest'altro caso possiamo semplicemente modificare l'URL e inserire il codice sdm di un determinato autore nella schermata in alto e possiamo procedere e selezionare questo autore inoltre abbiamo la possibilità sempre modificando l'URL di lavorare i dati di una specifica biblioteca in questo caso ho scelto l'associazione archivio storico Olivetti e anche qui grazie agli elementi presentati possiamo confrontare le opere di questo determinato autore che nella schermata iniziale ci vengono segnalate anche nella parte alta della schermata e qui possiamo vedere che tre opere su 29 coincidono quindi possiamo essere abbastanza certi che sia questo l'autore che corrisponde a quello del catalogo COBI qui dopo aver selezionato effettuato l'interlinking dell'autore possiamo vedere come all'interno del portale la voce è stata automaticamente incrementata e inoltre diciamo questo lavoro di interlinking è stato possibile monitorare il lavoro di interlinking effettuando delle query per vedere le numeriche degli autori con l'interlinking prima del lavoro e dopo aver effettuato l'interlinking in questo caso abbiamo diviso i risultati per le biblioteche appartenenti al progetto Pobis Loss e ripasso la parola a Terrianna grazie grazie Irene ecco ok sempre in favore dell'interoperabilità abbiamo comprendendo il valore di Wikidata che diventa sempre più un hub ricco di metadati abbiamo fatto la richiesta per creare un identificativo CoBis di un autore e creare collegamenti tra il portale e Wikidata durante questi giorni con Irene abbiamo fatto un lavoro di interlinking e visto che Olaf scrive sul grafo del CoBis ma non su Wikidata per un allineamento abbiamo elaborato i dati con i codici degli autori interlinkati attraverso uno spreadsheet e li abbiamo caricati su Wikidata in questo modo vediamo che l'arricchimento dei dati è reciproco e infatti i dati inseriti pubblicati sull'endpoint Sparkle poi servono ad alimentare il portale web e succede proprio quello che prima descriveva Elena quindi ogni volta che apriamo la pagina di un autore le informazioni vengono generate automaticamente estraendo le informazioni dalle fonti esterne quindi abbiamo le immagini da Wikimedia Commons le informazioni biografiche le informazioni la biografia da di Bipedia e così via è un casino sto cosa ho provato a guardare quel cd Alessandra forse c'è ok scusa abbiamo parlato quindi dei dati che sono pubblicati su l'endpoint Sparkle sono disponibili infatti abbiamo due approcci diversi per l'interrogazione o utilizzando keyword specifiche e i filtri e gli operatori booleani attraverso il motore di ricerca oppure impostando una query Sparkle sull'endpoint Sparkle è un linguaggio di interrogazione automatizzato per grafiare df come dicevamo prima per la memorizzazione così come per la memorizzazione dei dati è necessario creare una serie di triple anche per l'interrogazione dobbiamo generare delle triple e quindi tradurre la nostra domanda dal linguaggio naturale al linguaggio Sparkle gli elementi principali sono gli stessi a cambiare è l'ontologia infatti vediamo questo è un esempio di query che avevo scritto sul portale e questa è una query che invece poi avevo scritto per interrogare Wikidata e vediamo che gli elementi fondamentali sono la select e la where all'interno della select noi andiamo a definire le variabili di cui vogliamo visualizzare i risultati mentre nella where diamo le informazioni all'elaboratore per cercare i dati di nostro interesse quindi in questo caso io sto chiedendo all'elaboratore restituiscimi una lista di autori che sono in stanza di essere umano Q5 sarebbe il codice che identifica il genere umano ma di quegli autori voglio quelli che hanno un identificativo COBIS di un autore se avessi voluto tra i risultati vedere anche quale identificativo è associato a ogni autore nella select avrei aggiunto anche la variabile identificativo COBIS di un autore ho inserito qui velocemente una carrellata di esempi di query che si possono fare per interrogare il catalogo del COBIS LOAD informazioni più magari bibliografiche perché possono essere interessanti più a uso interno o a un ricercatore che ha bisogno di sapere di conoscere quali periodici hanno una digitalizzazione magari periodici pubblicati prima di una certa data o quali di queste opere hanno dei soggetti quali no quindi possono servire sia per migliorare il catalogo internamente ma anche per chi deve effettuare delle ricerche e a tal proposito avevo aggiunto delle query interessanti relative a le opere che hanno una digitalizzazione sul portale e di cui abbiamo notizia esistere su Wikidata un'edizione in comune e mi è venuta l'idea appunto che utilizzando questi dati facendo dei confronti visto che non è molto semplice spesso cercare su Internet Archive delle edizioni puntuali facendo il confronto direttamente con il catalogo che ti offre il link diretto di Internet Archive potrebbe risultare più semplice e in questo modo andare ad aggiungere su Wikidata sull'elemento corrispondente direttamente l'identificativo però su Wikidata interrogare Wikidata significa avere anche la possibilità di ottenere nell'immediato delle visualizzazioni grafiche dei risultati senza doverli rielaborare con tool esterni e crearsi dei CSV ad esempio utilizzando l'identificativo del COBIS si può chiedere quale autore del COBIS è stato influenzato da un altro autore del COBIS e quindi generare una lista di collegamenti questa è la mia preferita quindi dove ho chiesto da chi fu influenzato Dante e a cascata sono venuti fuori una serie di risultati e per alcuni era anche disponibile l'immagine un'altra query fattibile è chiedere quali sono cioè generare una timeline con le edizioni pubblicate prima del 2000 relativa alla narrativa di viaggio e quindi esplorare le varie edizioni utilizzando questa visualizzazione dei dati e qui invece avevo chiesto di generarmi una la rete accademica di Leibniz quindi in base a chi è stato studente di chi ho chi è effettuato il dottorato con quale docente oppure ho fatto dei grafici che siamo più abituati magari a vedere su delle lingue parlate e scritte degli autori del COVIS la cronologia dell'edizione molto importante che elaborata esternamente può tradursi in questa visualizzazione qui in cui si confrontano per biblioteca la cronologia di ciascuna biblioteca inoltre possiamo anche creare delle mappe anche all'esterno con i dati che più ci interessano e in questo caso avevamo chiesto di visualizzare i luoghi in cui hanno studiato gli autori del COVIS e avevo aggiunto anche una query in cui cercare gli autori in base all'argomento di cui avevano scritto e cercare se l'argomento coincidesse con il luogo di studio con il luogo in cui appunto avevano studiato prima Elena accennava a una a una query su le donne che avevano scritto più opere in un determinato periodo per inaffezionare il genere e il sesso dell'autore utilizzando Wikidata ovviamente non sempre sono presenti tutti i dati però è possibile fare una piccola stima io avevo cercato in realtà il numero di matematici per genere nel tempo e dando comunque tre periodi di riferimento già vediamo che tra il 1600 e il 1700 non c'è un dato che riporta un matematico di sesso femminile e invece per i periodi successivi già vediamo un incremento questo può voler dire che vanno inseriti nuovi dati o che comunque è un'evidenza che per quel periodo lì magari non era molto in un so comunque lo studio e approcciarsi a questo tipo di occupazione questa slide la presentiamo sempre ma perché è molto rappresentativa perché fare le query e creare delle visualizzazioni aiuta anche a capire come crescono i dati nel tempo infatti noi abbiamo fatto la stessa query durante il COBIS 1 e il COBIS 2 e che cosa è cambiato nella seconda fase la professione giornalista anche in base all'incremento degli autori e gli interlinti nel tempo è aumentato rispetto e ha preso il posto comunque del professore universitario adesso effettuando la stessa query non so cosa succederà appena clicco ok si sta aprendo speriamo anticipo che andremo a vedere che altre occupazioni magari avranno raggiunto un livello più ampio come ad esempio quello dello storico si è ripopolata rispetto alla fase 2 quindi l'importanza di questa visualizzazione è proprio quella di monitorare anche la crescita dei dati Wikidata in generale abbiamo già detto è un hub di un hub di dati però fa convergere oggi sempre di più in un unico punto d'accesso i dati di tanti altri progetti quindi diventa un modo per permettere di inserire dati su Wikidata significa non solo contribuire ad arricchire la conoscenza libera e popolare anche i propri cataloghi ma significa anche far dialogare e integrare dati di progetti diversi quindi questo porta a ad arricchire magari un dato che su un catalogo non è resistente e svincolare i dati da un contenitore chiuso e farli crescere quindi sottrarli all'obsolescenza e permettergli di essere utilizzati maggiormente dagli utenti avevo inserito anche un esempio per citare un altro un altro progetto quindi avevo fatto una query per chiedere dammi quali sono le opere su Wikidata che hanno l'id share catalog di un'opera con autore presente anche sul catalogo del CODIS e mi ero generata una lista quindi questo può anche mettere in connessione progetti diversi che magari hanno uno scopo comune e utilizzando altre piattaforme come Internet Archive e tante altre possono contribuire ad unire tanti dati che magari separatamente hanno un piccolo valore ma messi insieme si potenziano molto di più adesso ripasserei la parola ad Elena io voglio concludere appunto dicendo quali sono aspettate condivido di nuovo le slide perché velocemente condividi di e ora che cosa ci aspettiamo perché abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto ci sembrava giusto concludere dicendo quali sono le prospettive future beh adesso noi ci aspettiamo un COBIS LOD 6 quindi una nuova fase e siamo in attesa che venga stabilito dalla regione Piemonte se ci sarà una nuova un nuovo finanziamento a questo progetto di sicuro quello su cui vogliamo continuare è la digitalizzazione che qui è scappata perché ho fatto un pdf e non c'è l'ultimissima versione quindi ci crediamo molto e quindi uno dei lavori che verranno portati avanti nel caso venga validata una sesta fase di questo progetto è la digitalizzazione quindi puntare molto su Internet Archive non solo linkando opere digitalizzate da noi all'interno del progetto Cobis Digital Archive Cobis Digital Library Archive ma anche a digitalizzazione fatta da altre istituzioni anche non Cobis mantenere chiaramente questa piattaforma e lavorare in un'ottica Mab quindi lavorare su musei archivi e biblioteche perché noi spesso non siamo solo biblioteche ma i nostri istituti di cui noi siamo una sezione in realtà hanno un panorama molto più ampio e molto più vasto crediamo poi molto nelle potenzialità di Olaf perché come vi ho fatto vedere Irene è uno strumento utilissimo per pulire il portale e che spesso si può non è un portale pulito perché se BN non è pulito e quindi queste sarebbero le cose su cui noi vorremmo puntare oltre chiaramente a continuare nel fare comunicazione e spiegare quanto si è fatto e quanto ancora vorremmo fare nelle slide troverete anche alcuni link utili per approfondimenti sul nostro progetto e sulla tematica LOD digitale e poi un'ultima slide con il link al nostro portale i contatti se volete scrivere al coordinamento se volete scrivere a una di noi e anche il gruppo di lavoro che è stato coinvolto in questi cinque lunghi anni quindi tutte le bibliotecarie è l'unico bibliotecario che fa parte del gruppo e anche un ringraziamento speciale a Irene che è stata coinvolta in questi ultimi mesi grazie a un master lei è una nostra tirocinante del master dell'Università di Milano e anche a Flavia Massara che è stata un'altra importante risorsa aggiunta proprio nella fase cinque che con il suo punto di vista esterno ha sicuramente migliorato le nostre i nostri obiettivi ecco ci ha dato una linfa nuova di cui di sicuro avevamo bisogno intanto grazie per la bellissima presentazione sto leggendo adesso che c'erano delle domande su Olaf che scusate non li vedevo prima non riuscivo a vederle no no prima non erano domande o quasi adesso invece la domanda è concreta ok allora nel caso del COBIS diciamo che Olaf è più auso interno perché può essere gestito soltanto dai referenti interni invece ci sono stati altri casi in cui era adesso disponibile l'accesso registrandosi e poi un referente interno però avrebbe validato prima di salvare i dati ulteriormente però nel caso specifico del COBIS non è fattibile se volete provarlo posso mandarvi il link per allora è un altro progetto però in realtà il catalogo dei beni culturali quindi ve lo mando volentieri perché potete usarlo e trovare come funziona eccolo in chat in questo si vede ancora l'approccio lasciatemi dire da bibliotecari piuttosto che da community wikidata no cioè in wikidata chiunque può fare qualsiasi modifica noi bibliotecari siamo sempre stati molto gelosi dei nostri sistemi quindi lasciateci questa questo retaggio frutto di anni e anni di lavoro in cui solo i bibliotecari certificati è a seconda della preparazione quindi vi vorrei ricordare i livelli 51 71 e 91 di sbn ma quello che è linkato invece si riferisce al catalogo dei beni culturali sì esatto perché anche lì non è che ci vadano tanto per il cioè vuol dire anche quello è un catalogo molto controllato dal punto di vista della qualità perché tutte le schede sono validate infatti cosa succede proprio perché è aperto a tutti quando un utente valida una relazione non va subito scritta sul grafo ma si attende va in una room in attesa di promozione sì esatto del validatore ufficiale perché si può sbagliare facilmente quindi ci sia una piccola restrizione il punto della diciamo di verticalità di questa procedura sta nel fatto che si può creare un coro di bottiglia si riesce a stare al ritmo dei contributi oppure non solo pessimista è un'ottima domanda può succedere il bilanciamento è appunto tra la forza del gruppo e la necessità della precisione sì infatti ci sono sempre i pro e i contro esattamente però sono più scelte dovute ai referenti le preferenze per esempio giusto due giorni fa ieri ho finito di mettere a posto un pasticcio sull'identificatore della biblioteca nazionale israeliana perché c'erano mescolate i nomi di persone c'erano i soggetti e soprattutto le opere quindi ho messo tutti insieme e ci ne erano 5.000 di troppo c'è un lavorone per fortuna si poteva fare ma si capisce che non si può in un ambito preciso meglio non se non ci sono altre domande avrei voglia di chiedervi un chiarimento ancora su Olaf su come funzionano questi match che il software propone su che cosa si tu dici come allora voi caricate una serie di identificativi COBIS su Olaf che poi va a cercare i corrispettivi su VIAF e su Wikidata oppure infatti carica i dati carica direttamente i dati quindi non so le label dell'autore la data di nascita le opere e poi esegue la query a VIAF e Wikidata e ad esempio propone anche un dei preferiti in base al numero di opere in comune tra il COBIS e VIAF quindi confronta una serie di c'è tanti campi e ho capito grazie non so se anche qualcun altro del gruppo vuole aggiungere qualcosa del gruppo COBIS magari abbiamo tralasciato qualcosa non so io approfitto di questo silenzio intanto per ringraziarvi per averci accolto oggi per presentarvi il nostro progetto capisco che siamo andate un po' lunghe però cinque anni da raccontare sono lunghi c'è tanta roba e niente spero che sia stato per voi interessante che magari il 14 dicembre riusciamo lavorando insieme ad incrementare un po' i dati su Wikidata sì mi unisco a questa conclusione di Lianna anche perché appunto io credo molto in Wikidata e penso che veramente possa essere uno strumento molto affine a noi bibliotecari e quindi se riusciamo in qualche maniera a lavorare su Wikidata riusciamo veramente ad avere un mondo di informazioni migliori più pulite ma soprattutto più accessibili perché sono veramente aperti a una community enorme sovranazionale quindi è veramente un'opportunità per allargare i nostri confini e non rimanere solo nel chiuso dei nostri piccoli cataloghi nei nostri piccoli cataloghi che se siamo già fortunati sono a livello italiano ecco hai ragionissimo perché questa a mio parere questa dimensione della cooperazione nell'ambito del link e data deve essere per forza tra colleghi diciamo e quindi avviene magari sporadicamente sui problemi sui punti critici però poi già senti comunque l'apporto del lavoro degli altri quando recuperi tutta l'informazione che non avevi prima è eccezionale oltretutto a Wikidata cioè diciamo al mondo wiki interessa molto il nostro approccio perché noi siamo abituati a lavorare con dati strutturati noi siamo abituati a implementare proprio quello che c'è dietro Wikipedia cioè quello vero da il mondo che c'è dietro che parla attraverso sigle che per noi è una cosa abbastanza di routine anche anche il mondo wiki è interessato al lavoro dei bibliotecari in questo caso è una bellissima esempio di riuso una volta di tirata forse il più bello che in questo momento lo conosca è vero concordo cosa facciamo ci sono altre domande guardiamo in chat ci sono un sacco di complimenti e ringraziamenti meritatissimi possiamo chiudere così salutarci e darci appuntamento però il 14 dicembre tutti presenti anche per lavorare un po' per lavorare davvero ottimo bene grazie grazie a voi grazie davvero ciao grazie a voi 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 grazie a voi